Musica Eccoci con Ora Tg, prima edizione, ben trovati, apriamo subito con la cronaca. C'è anche il regente del clan Buttaro di Siracusa, tra gli arrestati dalla polizia retusia e catanese nelle scorse ore farebbero parte di uno sodalizio di stampo mafioso che, con la forza delle armi, gestiva bische clandestine e traffico di droga. Musica Punirne uno per educarne 100. Ci vogliono i morti, ci vuole la guerra. Sono alcuni passi delle intercettazioni che la sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo di Catania, della Polizia di Stato e della Squadra Mobili di Siracusa hanno captato su indagine coordinata dalla Direzione Distrittuale Antimafia di Catania e che ha puntato l'attenzione sul clan criminale di stampo mafioso attivo da tempo a Siracusa. Il gruppo, denominato Borgata, fa riferimento all'organizzazione Bottaro Anastasio e si sarebbe occupato di droga, gestione di bische clandestine, il tutto con l'uso di armi. In manette Giuseppe Guarino, Steven Curcio, Corrado Piazzese, Luigi Scollo, tutti siracusani. Guarino sarebbe il regente, così come sospettano gli inquirenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo infatti avrebbe ricevuto l'investitura da parte di Alessio Attanasio precedentemente alla guida del gruppo. Il sodalizio si sarebbe occupato di assistenza familiare e detenuti, poi ancora al pagamento degli stipendi esodali, quindi alla mutua assistenza con altre organizzazioni e, in antitesi, avrebbe operato persino per coaptare alcuni appartenenti a clan di schieramenti opposti. Il fatto di avere delle armi avrebbe accresciuto la forza intimidatrice sul territorio. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Fabrizio Aliotta e, tra i vari episodi, sarebbe messo una vera e propria spedizione punitiva ai danni di un siracusano. Colpi di arma da fuoco verso il suo appartamento, anzi, meglio, verso la finestra con la luce accesa, esplosi per un alterco con uno dei sodali a causa di un debito pregresso. In un garage la squadra mobile ha trovato due pistole, munizioni, un cospicuo quantitativo di droga. Tutti sono ritenuti a vario titolo. Interni al gruppo, protagonista, dicono gli inquirenti, di una vera e propria escalation criminale. I carabinieri nel corso di uno blitz ieri pomeriggio hanno arrestato il bosso latitante Giuseppe Auteri. Siamo a Palermo, ritenuto il reggente del mandamento mafioso di Porta Nuova. Ovviamente non ha detto nulla. Non si aspettava ovviamente dopo tre anni che era latitante di essere arrestato. Il bosso Giuseppe Auteri era nella lista dei 100 latitanti più ricercati. Questo fino a ieri pomeriggio, quando i carabinieri del comando provinciale di Palermo lo hanno arrestato. Auteri si trovava in un appartamento di via Giuseppe Recupero nel quartiero Reto, in quella casa. Nei pressi della stazione centrale del capoluogo Auteri viveva da solo. Il boss di 48 anni, ritenuto dagli inquirenti, il reggente del mandamento mafioso di Porta Nuova, era latitante dal 2021. Quando è scattato il blitz i militari dell'arma hanno cinturato l'area attorno alla palazzina dove viveva. Hanno fatto irruzione all'interno di un immobile posto al secondo piano. Quando è stato catturato il boss non ha opposto resistenza, si è fatto ammanettare senza proferire parola. All'interno del covo i carabinieri hanno trovato un revolver calibro 38 con matricola brasa. Rinvenuti in oltre 5.000 euro in contanti e documenti ritenuti dagli inquirenti materiale importante per il proseguo delle indagini. Giuseppe Auteri, conosciuto con l'appellativo di Vassoio, ha riportato condanne definitive sia per mafia che per estorsione aggravata. I pentiti lo definiscono uno degli esponenti più affidabili della Cosca per i tanti anni di carcere alle spalle. Gli investigatori lo ritengono molto vicino al boss Tommaso Lopresti. Quest'ultimo, dopo essere stato scarcerato, gli avrebbe affidato un ruolo apicale nel mandamento di Porta Nuova, il più importante del capoluogo. Un arresto molto importante. Abbiamo arrestato Auteri Giuseppe, quindi riconosciuto come il capo del mandamento di Porta Nuova. 48 anni. Abbiamo dato esecuzione ad un'ordinanza del 2022 che era stata emessa dalla procura di Palermo. L'abbiamo trovato all'interno di un appartamento nella zona Oreto di Palermo. Al momento dell'arresto il laditante non ha opposto resistenza. All'interno dell'appartamento è stato trovato una pistola revolver calibro 38, 15 colpi e è stato trovato anche un denaro contante. Spostandoci in provincia, i militari dell'arma hanno inferto un duro colpo al mandamento mafioso di Trabbia. Ieri, nel corso di un'operazione eseguita sempre dai carabinieri del comando provinciale di Palermo con lo squadrone li portato, cacciatori di Sicilia, sono state arrestate e condotte in carcere 19 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, lesioni personali, minacce, detenzione, porto illegale di armi da fuoco, trasferimento fraudolento di valori, furto in abitazione, favoreggiamento personale, turbata libertà degli incanti, commessi con l'aggramante del metodo mafioso. Al blitz antimafia si è giunti dopo un'accurata attività investigativa, durata sette anni e condotta dal reparto territoriale dei carabinieri di Termini Merese. Gravi gli indizi di colpevolezza raccolti nel corso delle investigazioni eseguite tra il 2015 e il 2022. Ad essere emerse numerose richieste estorsive nei confronti di commercianti e imprenditori, individuati, vertici e reggenti del mandamento mafioso. I carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Catania per circa 100 mila euro, secondo quanto emerge dagli accertamenti. Gli indagati avrebbero circuito degli anziani all'epoca dei fatti ultra novantenni, oggi tutti deceduti, per ottenere indebitamente somme di denaro, nonché beni mobili e immobili, approfittando dello stato di infermità, li avrebbero indotti a sottoscrivere contratti assicurativi, lucrando sulle provvigioni. Inoltre alcuni allevatori di bestiame e di fondi agricoli, nei siti nei comuni di Cesaro e San Teodoro, mediante la sottoscrizione di contratti d'affitto e fraudolente dichiarazioni, avevano lucrato in questo modo, sempre truffando i vecchietti, così ottenendo illecitamente i contributi comunitari della AGEA. Ancora violenza nel carcere etneo di Piazza Lanzo, detenuto di origine siracusana, tossicodipendente, con presunti problemi psichiatrici, ha cercato con la forza di trepassare un cancello di uno dei reparti del carcere. Nel contrapporsi un agente della Polizia Penitenziaria è stato colpito violentemente con alcuni schiaffi al viso, ma è comunque riuscito a chiudere il cancello. Lo denuncia il sindacato Sappe della Polizia Penitenziaria. Purtroppo torna ancora una volta alla ribalta il carcere catanese. L'accelerata scelta di chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari ha determinato tutto ciò. È imperativo, secondo il Sappe, incrementare l'organico di figure professionali specializzate per garantire una gestione adeguata di queste problematiche. Ricorderete lo stupro di gruppo del luglio scorso al foro italico di Palermo. C'era anche un minore all'epoca dei fatti, adesso è stato condannato a otto anni e otto mesi. Dovrà scontare otto anni e otto mesi di carcere l'unico minorenne che lo scorso 7 luglio ha preso parte allo stupro di gruppo che ha visto vittima una ragazza di 19 anni violentata all'interno di un cantiere abbandonato al foro italico di Palermo. Arriva dunque la prima condanna. Il minore era stato arrestato ad agosto insieme agli altri sei membri del gruppo accusati di avere preso parte allo stupro. Il processo di primo grado si è svolto con il rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale dei Minori. La procura aveva chiesto otto anni. L'imputato, che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 18 anni, inizialmente aveva confessato e raccontato di essere stato l'unico del gruppo ad aiutare la vittima. Il GIP aveva così deciso di farlo uscire dal carcere e di affidarlo ad una comunità, successivamente a causa di alcune pubblicazioni del giovane sui social network, post nei quali con spavalderia si vantava di quanto fatto, il GIP, accogliendo la richiesta della procura, dispose nuovamente il carcere per i giovani, che finì di nuovo al malaspina. A suo carico, gli inquirenti hanno il contenuto di alcune conversazioni recuperate sul telefono cellulare sequestrato, chat in cui il giovane imputato avrebbe ammesso con un amico che la 19enne non era consenziente. La vittima ha sempre ribadito di essere stata aggredita e di aver gridato basta chiedendo di smettere i suoi guzzini, che alla fine l'avrebbero abbandonata per strada dove è stata soccorsa da due passanti. In alcune intercettazioni sono gli stessi imputati ad ammettere che lei gridava basta, che le faceva male, riscontrando dunque la versione della giovane vittima. A Catania, in via Domenico Tempio, gli agenti della squadra volante della Questura hanno notato un'autovettura che effettuava manovre di soppasso azzardato e dopo averla seguita i poliziotti hanno fermato il veicolo in via San Giuseppe Larena, hanno identificato il conducente, un quarantenne siracusano, con a carico diversi precedenti penali. L'uomo sin da subito ha mostrato però insofferenza al controllo. Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'autovettura, rimanendo una sacca di tela con all'interno una grossa busta di plastica che conteneva della sostanza erbacea, verosimilmente marijuana, per un peso complessivo di circa un chilogramma. È stata inoltre trovata una busta termosaldata contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di 514 grammi il quarantenne. È stato arrestato. Incredulità, rabbia per il tragico incidente costato la vita ad un ex portinaio in corso Italia a Catania continua la caccia alla pirata della strada. Sono ancora in corso le indagini per cercare di capire esattamente cosa sia accaduto all'angolo tra Corsa Italia e via Vittorio Veneto a Catania, dove a causa di un fatale impatto ha perso la vita Gatino Botta, personaggio molto conosciuto in zona, perché per tanti anni si è occupato della portineria di un palazzo al Civico 69. Tutti ricordano il suo sorriso e i modi gentili e signorili, ma domenica mattina Botta è morto in ospedale dopo essere stato travolto sulle strisce pedonali da un pirata della strada, l'uomo che era alla guida dell'auto di colore bianco. Dopo essersi inizialmente fermato, pare sia fuggito senza prestare soccorso. Sono attentamente al vaglio le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e potrebbero risultare determinanti talune testimonianze. Intanto però, tra gli esercenti della zona e quanti lo conoscevano, c'era impianto di non vedere più il 93enne Gatino Botta, che dopo aver concluso la sua attività lavorativa, era solito passeggiare nella zona, spesso anche insieme alla moglie. Sì, lo conoscevamo, lo conoscevamo tutti. Ogni mattina usciva di casa, faceva la passeggiata, una persona dolcissima, veramente. Da quando era in pensione non faceva più il lavoro di portineria, quindi era solito passeggiare la mattina in questo tratto di Corsa Italia. Tutto il tratto di Corsa Italia, da qui faceva avanti e indietro, dalla mattina fino all'ora di pranzo. Lui e all'inizio anche con sua moglie. Lei ha un esercizio commerciale proprio attaccato a questo condominio, quindi lo conosceva bene? Sì, siamo proprio della stessa palazzina. Senta, ma cosa avete sentito su questo episodio? Se ne sono dette tante, come sono andate le cose secondo lei? Allora, io non lo so perché venerdì mattina ovviamente l'incrocio è un po' più in là, quindi essendo dentro non ci siamo accorti di nulla, anche perché la mattina è sempre un continuo passare ambulanze, claxon. La cosa di cui mi rendo conto è che è un continuo qui, non si rispettano le strisce pedonali, non si rispettano i semafori, parcheggiano ovunque, quindi purtroppo poteva capitare, poteva succedere a tutti. Ci vorrebbe più controllo? Sì, assolutamente. Assolutamente più controllo, magari qualche vigile, qualche pattuglia che giri ogni tanto e faccia qualche multa a chi non rispetta i semafori, a chi passa a velocità. Le ore di punta poi sono sempre la mattina, l'ora di pranzo e la sera dopo le 5 quando vanno via tutti dagli uffici. È morta all'ospedale Piemonte di Messina, Alberta, la suora di 82 anni, vittima di un incidente avvenuto quattro giorni fa a Messina in via Cesare Battisti, 82 anni, Carmela Giudizio, questo è il nome alla nagrafe, era stata travolta da una Opel Mocca condotta da una 55enne messinese. La sua area è stata trasportata in ambulanza al Piemonte, ricoverata in rianimazione, ma ieri sera è purtroppo deceduta. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti questa mattina per un principio di incendio sviluppatosi all'interno di un locale batterie a bordo della nave cargo Eco Mediterranea, ormeggiata al molo 32 del porto di Catania dopo la richiesta di soccorso ricevuta dalla Capitaneria di Porto. Sono inizialmente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento portuale, poi sono state inviate due ulteriori squadre dal distaccamento sud e dalla sede centrale del comando provinciale. Il locale interessato dall'incendio è stato messo in sicurezza. Una squadra dei pompieri è rimasta a presidio della nave fino al completo ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio degli impianti interessati. non si hanno notizie di persone ferite o intossicate dal fumo, sono in corso di accertamento le cause dell'incendio. Alla Palazzo Municipale di Priolo Gargallo rinnovata la convenzione tra aspe e comune per lo screening gratuito alla popolazione di prevenzione e contrasto alle malattie oncologiche. Priolo Gargallo nel territorio di Siracusa ospita Omega Polo Petrolchimico e la più alta percentuale dei pazienti oncologici d'Italia, almeno uno per famiglia tra gli 11 mila residenti all'ombra degli impianti di lavorazione degli idrocarburi, un attributo altissimo per la popolazione del comune rettoseo dove il benessere economico scaturito dall'occupazione di migliaia di addetti impiegati nelle raffinerie da decenni fa appugni con la salute della popolazione soffocata dalla cappa di Veleni che giorno e notte, 365 giorni l'anno, vengono sputate dalle ciminiere. Gli screening gratuiti riservati a tutti i cittadini residenti del progetto salute rinnovando la convenzione oncologica tra comune di Priolo, Aspi di Siracusa e ISAB giunta al 14esimo anno per un massiccio programma di prevenzione in cui i priolesi vengono sottoposti ad una serie di esami clinici negli ambulatori del centro di urno di via Mostringiano. Fortunatamente con questo screening abbiamo fatto tante diagnosi preventive e abbiamo salvato tante persone. Speriamo di continuare a salvarne sempre di più e a poter fare questo tipo di interlocuzione molto positiva con l'Aspi di Siracusa e con la ISAB di Priolo che hanno contribuito e contribuiranno a sostenere questa iniziativa che di fatto alleggerisce anche la struttura pubblica dell'ospedale perché anziché andare all'ospedale verranno a farsi le visite preventive qua come abbiamo fatto anche per i cittadini di altri comuni per garantire quanto più possibile sanità, salubrità e salute. In conferenza stampa stamani presso il Palazzo di Città la sottoscrizione dell'accordo presenta il sindaco Pippo Gianni e il commissario straordinario dell'Aspi di competenza Salvatore Madonia che ha sottolineato l'importanza delle campagne di prevenzione. Ho evidenziato oggi che le campagne di screening che vengono fatte dall'Aspi hanno tipicamente un'adesione abbastanza bassa quindi noi dobbiamo essere bravi sicuramente a sollecitare quanto più possibile la popolazione all'adesione alla campagna di screening. Il protocollo che abbiamo sottoscritto oggi è un protocollo che si mette in modo complementare a quelle che sono le campagne di screening e quindi nel territorio di Priolo consente di implementare le attività. ISAB presente con il direttore generale Bruno Martino è medico degli stabilimenti di raffineria che partecipa e sostiene il progetto di prevenzione oncologica. Noi siamo sensibili al tema, oggi si parla tanto di sostenibilità e questo tipo di interventi fanno parte del nostro piano sulla sostenibilità però non è una cosa nuova che facciamo adesso ma sono 14 anni che partecipiamo a questa iniziativa. Come dicevo qui per il comune di Priolo abbiamo fatto 10.000 controlli che sicuramente hanno contribuito a prevenire qualche patologia piuttosto grave. Lo stesso facciamo all'interno dello stabilimento dove facciamo tantissimi altri controlli aggiuntivi di prevenzione per il personale sociale. I dati recenti sui livelli dell'inquinamento sono da record classificati con la dicitura disastro ambientale per effetto delle emissioni in natura di oltre 70.000 tonnellate di inquinanti allo sversamento in mare di 250.000 tonnellate di risuidi della lavorazione del petrolio da quanto emerso da un'inchiesta della magistratura retosea che ha messo sotto indagini i vertici delle industrie petrolchimiche e quelle del depuratore consortile al centro di un recente programma di adeguamento e bonifica del territorio. E nel frattempo a Priolo Gargallo la gente continua ad ammalarsi e a morire di cancro e altre patologie connesse. Morti bianche in Sicilia manifestazione a sostegno dell'iniziativa nazionale contro la scia di sangue che segna i luoghi di lavoro. I dati nel capoluogo etneo. Fermiamo la scia di sangue, lo slogan che la CISL ha scelto per la sua manifestazione regionale volta a sostenere i contenuti della propria piattaforma presentata al Governo centrale. In provincia di Catania nel 2023 si sono registrati 7.020 infortuni totali contro i 7.588 del 2022, meno 8,1%, 14 dei quali mortali contro i 18 nel 2022, meno 28,6%. A Catania il presidio davanti alla prefettura presenti tutte le federazioni per dare un segnale contro le morti sul lavoro, aderendo di fatto alla mobilitazione nazionale alla luce dell'ultima tragedia avvenuta nel cantiere di Firenze l'ennesima e qui il drammatico caso di Mister Bianco dove un imprenditore ha perso la vita. Servono nuove strategie per salvaguardare lavoratori e lavoratrici che chiedono tutela e sicurezza. In città il segretario regionale CISL Sicilia Paolo Sanzaro e il segretario generale della CISL Etnea Maurizio Attanasio. Purtroppo ogni volta ne parliamo il giorno dopo, per questo noi siamo qui come CISL proprio per manifestare e dire no ai morti sul lavoro. Siamo qui perché vogliamo fermare questa scia di sangue, siamo qui perché la cultura della sicurezza diventi patrimonio di tutti, in ogni cantiere vanno potenziati i responsabili dei lavoratori per la sicurezza, va fatta un'alleanza sana e giusta col mondo della scuola per quanto riguarda la formazione, vanno formati i lavoratori, vanno fatti investimenti e va premiata quell'azienda che non ha per fortuna incidenti mortali nei propri cantieri. Lo scorso anno gli operatori del servizio di impiantistica e antinfortunistica dell'ASPA hanno effettuato 4.037 verifiche di sicurezza su macchine, impianti e attrezzature. Il personale ispettivo del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ha invece eseguito complessivamente 598 sopralluoghi, di cui 341 nel settore edile, 110 nel settore agricoltura e 147 nel terziario, riscontrando un totale di 498 violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed elevando oltre 350 verbali di contravvenzione per circa 720 mila euro. Vorremmo consegnare, così come stiamo facendo in tutta la Sicilia e in tutta Italia, questo nostro decalogo di 10 punti, 10 punti di rivendicazione sui temi della salute e sicurezza. Abbiamo aggiunto anche le questioni che riguardano proprio il nostro territorio. Anche i pensionati sono scesi in piazza per la sicurezza sul lavoro e domestica. Il tema della sicurezza coinvolge tutti, ha affermato Giacomo Giuliano, segretario generale della FNP Pensionati CISL di Catania. Trasporti, il processo di riconversione green continua alla MTS di Catania. Oggi sono state presentate le nuove infrastrutture di energia pulita per una città sempre meno inquinata. A Catania, a MTS e la sua conversione green del parco mezzi, ecco le nuove infrastrutture di ricarica con le colonnine per i bus elettrici che in sole tre ore tornano ad essere operativi al 100% e che sosteranno in fase di recharging proprio sotto queste pensiline. Accanto la centrale ad energia pulita. Siamo nella sede R8 dell'azienda metropolitana Trasporti che nella zona industriale vede lavori di trasformazione e ammodernamento del sito che a loro volta rientrano nel più ampio piano di conversione green del parco mezzi di AMTS. Oggi il più grande in Sicilia ed uno dei più ampi del sud Italia. È un percorso che abbiamo iniziato già da qualche anno insieme all'amministrazione comunale che peraltro ci ha voluto soggetto attuatore di tutte le misure sulla conversione green e sulla mobilità. Abbiamo fatto investimenti importantissimi come vedete e quindi con questo investimento e con gli altri che sono in programma per fare analoghe infrastrutture da qui alla fine dell'anno avremo la possibilità di ricaricare i 140-150 bus elettrici che sono già in corso di consegna. In termini economici il risparmio in questa fase sarà limitato perché l'impianto fotovoltaico non coprirà tutto il fabbisogno elettrico che quindi verrà preso dalla rete. Però a regime ci sarà certamente risparmio perché il progetto finale è quello anche di creare ulteriori parchi fotovoltaici per andare in autoproduzione e quindi poter completare il ciclo e quindi dalla risorsa eolica poter dare energia ai nostri bus. Lavori per una parte finanziati dal PON Città Metropolitane 2014-2020. Vediamo realizzata un'opera importante che porterà benefici non solo all'MTS ma naturalmente alla nostra città e alle casse comunali anche. Sono investimenti che si sono portati avanti, che si sono concretizzati attraverso i fondi del PON Metro con le somme aggiuntive che sono le somme delle Reactive e sono state acquistate le pensiline, sono stati acquistati i nuovi autobus elettrici, quindi insomma una strategia importante che ci vede primeggiare tra le città d'Italia per quanto riguarda iniziative di questo genere. Quindi ne siamo felici, stiamo andando avanti, arriveranno i nuovi autobus acquistati anche con il PNRR e soprattutto la cosa da sottolineare è che l'amministrazione e in particolare la direzione povera delle politiche comunitarie hanno siglato un accordo tempo fa con l'MTS per far diventare soggetto attuatore e quindi accelerare la spesa sui fondi comunitari. Abbiamo creato questa nuova isola che si autoalimenta e quindi consente ai nostri autobus una circolazione assolutamente green quindi non solo risparmio energetico ma risparmio anche dei costi di carburante e nello stesso tempo progresso verso l'idea di sostenibilità ambientale che noi stiamo cercando di mettere in pratica anche attraverso concrete azioni con la chiusura progressiva di strade del centro storico e non solo. Ad Acireale il questore di Catania ha emesso due d'acuro provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane nei confronti dei due persone già sanzionate con l'ordine di allontanamento perché nuovamente sorpresa svolge l'attività di parcheggiatore abusivo e personale nel comando della polizia locale ha infatti intensificato i controlli nel territorio per contrastare situazioni di degrado, parcheggio Galatea, poi piazza Peppino Impastato, piazza Francesco Patanè sono solo alcune delle zone dove sono stati verbalizzati quattro parcheggiatore abusivi colpiti da immediato ordine di allontanamento. Due di questi sono stati trovati a reiterare la condotta illecita uno per ben tre volte e l'altro per quattro volte oggetto dei controlli scrive alla polizia locale di Acireale sono stati anche il Corso Italia e Piazza Livatino il fenomeno dei parcheggiatori abusivi ribadisce il sindaco Roberto Barbagallo non va sottovalutato sono comportamenti illegali che infastidiscono e limitano la libertà dei nostri concittadini con l'approvazione del nuovo regolamento dice ancora Barbagallo abbiamo dato precise indicazioni rispetto ai comportamenti da tenere, applauso anche da parte dell'assessore alla polizia locale Giuseppe Basta Rigenerazione urbana di San Cosmo ad Acireale si tratta di un quartiere di edilizia popolare illustrato il progetto di adeguamento Rigenerazione urbana del quartiere San Cosmo, rione popolare di Acireale il progetto sostenuto dal Ministero della Cultura, Dipartimento Generale e Creatività aggiunto alla quinta edizione del programma denominato Creative Living Lab prevede la partecipazione attiva dei residenti invitati a collaborare indicando priorità e criticità di un quartiere rimasto per anni ai margini degli interventi necessari a ridurre la ghiettizzazione dei complessi abitativi di edilizia popolare, molti alloggi necessitano inoltre di interventi di riqualificazione edile e da anni le strade non vengono manutenute architetti, sociologi e artisti contemporanei sono coinvolti nel progetto l'associazione senza fissa dimora, promotrice e capofila del programma di interventi ha operato in sinergia con il Comune e le associazioni Avaia e Analogic con il patrocinio dell'Istituto Autonomo Case Popolari che ha sposato e sostenuto l'iniziativa. Alice Acquaviva, architetto tra i progettisti della rigenerazione urbana di San Cosmo. È un progetto che parte proprio dall'ascolto delle comunità quindi il nostro intervento non sarà semplicemente di decidere cosa verrà fatto all'interno del quartiere ma è già stato attivato nel mesi precedenti al progetto, un percorso di community engagement e di ascolto della comunità per capire quali sono le esigenze all'interno del quartiere proveremo a realizzarle il più possibile attraverso attività di coprogettazione e di autocostruzione all'interno del quartiere proprio per andare ad agire direttamente con la comunità coinvolta che vive gli spazi tutti i giorni all'interno del quartiere. L'ambizioso piano coinvolge anche i residenti chiamati a formulare suggerimenti e proposte. La street art, previsti alcuni murales, darà nuovo vigore funzionale al rione. L'architetto Anna Maria Grasso è tra le progettiste del programma di rigenerazione urbana. Diciamo che quello che abbiamo imparato anche noi, io e la dottoressa Acquaviva nella nostra attività lavorativa è che la street art sola può fare poco sicuramente si può abbellire un quartiere ma non si può realmente rigenerarlo quindi la street art è una parte fondamentale di un processo ma non può essere l'unica parte. È necessario assolutamente come dicevo coinvolgere le comunità. In conferenza stampa anche il vice sindaco Valentina Pulvirenti che ha illustrato l'importanza sociale del piano che si articola su più livelli di intervento, previsto anche un museo di comunità. È un bel progetto che vede la valorizzazione soprattutto dei quartieri perché è bene quando si fanno dei progetti non concentrarci solo sul centro ma anche sulle zone periferiche della nostra città. Questo è un bel progetto che ha come obiettivo sicuramente una forma di integrazione dei residenti del quartiere di San Cosmo. È un progetto quindi di aggregazione e di inclusione ma è un vero e proprio progetto sociale perché attraverso dei laboratori unisce il territorio ascoltando le loro esigenze per poi concludere in un museo comunitario che vedrà anche la realizzazione di piccoli interventi su richiesta degli stessi abitanti. Effetto telamone sfiorati 12 mila visitatori nel parco della Valle dei Templi di Agrigento nel fine settimana appena trascorso con oltre 9 mila visitatori nella sola giornata di domenica all'incremento rispetto allo stesso periodo del 2023 è stato del 25 per cento. Il numero di visitatori in questo weekend ha detto l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato ha superato le nostre aspettative confermando il potere attrattivo del telamone. Tantissime le famiglie che hanno raggiunto la valle, i turisti curiosi, i bambini che hanno riempito il laboratorio dedicato proprio alla statua che è stata svelata giovedì scorso, lo ricordiamo, alla presenza del presidente della regione siciliana Renato Schifani. E noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pausa pubblicitaria a linea alla regia. Oggi Paolo Coco e Manuela Musumeci ci rivedremo subito dopo. Nuovamente in studio dopo gli spot non ci sono altre notizie dunque chiudiamo il giornale con il meteo. Le previsioni del tempo in Sicilia del 6 marzo cielo sereno poco voloso ovunque venti in regime di brezze mari quasi calmi o poco mossi le temperature nel cantello che segue stazionarie le minime leggermente più alte, le massime soprattutto nelle aree costiere. Con il meteo noi ci fermiamo, termina questa edizione del telegiornale. Ora TG ritornerà questa sera alle ore 19.45 con una nuova edizione. Grazie per la vostra attenzione, buon proseguimento di pomeriggio a voi tutti.